Lo sapevate che in Inghilterra adesso c'è un'altra regina? È la regina del calcio made in Italy. Si chiama Laura Esposto, ha 29 anni e in poco tempo è diventata famosissima su Channel 5 dove presenta un programma sul calcio italiano. Giovanni Masotti l'ha incontrata a Londra. Ciao e bentornati a Football Italiano. Solo Football Italiano la domenica pomeriggio su Channel 5. No Manchester, no Arsenal. È la volta di Inter, Juve, Roma. Un azzardo. L'inizio invece funziona anche grazie alla conduttrice made in Italy. Bolognese ma milanese d'adozione. Dalle sfilate di intimo a Los Angeles a Milan Channel e adesso a Londra. Piace Laura Esposto. Not only pretty, non solo Carina, ha scritto il Times. Ma allora è stato un po' un caso e un po' un colpo di fortuna diciamo trovarsi al momento giusto, nel posto giusto, come si usa sempre dire. Insomma loro hanno, stavano cercando una ragazza che sapesse l'inglese, che conoscesse calcio, fosse di bell'aspetto diciamo, insomma. E allora... Ma gestina? No, no, questo è quello che cercavano, poi non so se l'hanno trovata o meno. Fascinosa e un po' vamp nelle esperienze precedenti. Più sobria e abbottonata come conduttrice. A 29 anni oggi come oggi sceglierebbe di restare in Inghilterra. In Inghilterra al momento potrebbe essere più facile perché ho avuto questa grossa opportunità e la visibilità è molto elevata e quindi farei un bel po' di anni in Inghilterra e poi magari ritorno in Italia. Magari è la domenica sportiva? Magari, perché no?